Benissimo, grazie. Allora, la parola a Roberto. Abbiamo cinque minuti e quindi abbiamo superato pochi minuti, le 19 siamo di sopra, però, cinque minuti. Devo solo rispondere alle due domande, poi una battuta su tutte le cose che diceva Katia Papà. Perché non valorizzare le matrici di sinistro del pensiero ecologico? Assolutamente da fare, lo diceva anche Ermete, io e Ermete, comunque siamo, veniamo da quella storia, la lega ambiente viene da quella storia, la lega ambiente nasce come un pezzo dell'arci per intuizione, insomma, di alcuni. Quindi, il punto quindi non è che ci sia tanto di sinistra nell'anagrafe culturale e anche biografica del pensiero ecologico. Il punto è se poi questa riflessione vada collocata su un terreno che si pone altrove, che mantiene, conserva, custodisce questa memoria, queste radici, ma che è altrove. Non per citare sempre lega ambiente, ma appunto lega ambiente nasce lì, dopo sei anni da quando è nata, nel 1986, decide di uscire dall'arci, valutando che bisognasse costruire un movimento di cittadini, in forma organizzata, come allora amavamo chiamarci, che non fosse più, che non, diciamo, non si muovesse più in termini, come dire, collaterali rispetto ai partiti della sinistra, in particolare rispetto al partito comunista. Credo che quella fu una scelta molto lungimirante, ma credo che in maniera metaforica e simbolica indica appunto il, come deve collocarsi il rapporto con le radici. Dentro le quali c'è appunto, ci sono le pagine che io non conoscevo, che tu mi hai fatto conoscere, di Marx, sul paesaggio, in cui dice cose appunto molto, che confermano il fatto che si sia trattato comunque di un uomo, di una certa, di una certa perspicacia, in cui dice, non raccontiamoci che il paesaggio sia, adesso analizzo e attualizzo, che sia wilde, ma è stranne appunto le isole coralline, il paesaggio è una roba che abbiamo costruito noi umani. Seconda domanda, perché non riconciliarci col materialismo? Accetto la sfida, la provocazione, assolutamente, sì, io in questo libro per esempio parlo dell'importanza da recuperare e da riscoprire della geografia, no? Nelle sue varie manifestazioni sulla storia, rispetto alla storia dell'uomo. Per esempio, per dirne una, l'Europa oggi, al di là dell'Ucraina, è alle prese con un enorme problema materiale. Il problema materiale dell'Europa è che dopo mille, duemila anni, adesso ognuno poi periodizza come gli pare, comunque dopo un sacco di tempo, non è più dominus del mondo per motivi materiali, perché la sua popolazione è il 7% dell'umanità, il territorio che occupa è una piccola parte, il 5% delle terre emerse, il suo PIL è destinato progressivamente a pesare di meno e quindi l'Europa se vuole giocare la protagonista deve cambiare gioco, appunto deve fare le cose che io credo, tra le quali credo abbia un posto importante e decisivo l'economia verde e l'economia, la green economy, la transizione ecologica. Il tema del post-materialismo è un po' diverso, cioè, lo diceva Hermete, questi movimenti sono nati dalla convinzione di, diciamo, recuperare la dimensione della qualità rispetto a quella della quantità. La transizione ecologica è uno scenario nel quale tu produci la stessa ricchezza, si faceva l'esempio del vino, consumando molto meno materia. Quindi, in questo senso, l'ambientalismo ha una vocazione post-materialista, ma non certamente nel fatto che debba, come dire, leggere la realtà riducendo l'importanza attribuita alla dimensione materiale. E per finire, dico alle cose che diceva, intanto permettimi di dire una cosa, tu con un lapsus freudiano, che io però ho molto apprezzato, mi ha chiamato Piero della Seta, che era mio padre. No, sono molto contento perché questo tuo lapsus mi consente di dire che, per esempio, tra le... dovendo ricostruire le radici, no? Che poi hanno portato al pensiero ecologico, per esempio il mio padre ha avuto un ruolo importante. Noi, Rega Ambiente, si è battuta, forse una delle battaglie fondative e costitutive dell'impegno quarantennale di Rega Ambiente, è quella contro l'abusivismo edilizio. Nel Partito Comunista, mio padre, insieme a non molti altri, è stato tra i primi e per molto tempo è stato uno dei pochissimi che consideravano l'abusivismo edilizio una piaga da combattere, mentre molti altri, leggendo la realtà di nuovo con le stesse lenti che erano abituati a utilizzare da sempre, credevano che l'abusivismo edilizio, comunque, siccome avesse a che fare con la necessità sociale degli ultimi di costruirsi una casa, andasse in qualche modo difeso dal PC. Per fortuna, poi, almeno su questo, la sinistra in linea di massima si è attestata sulle giuste posizioni. No, dicevo, per quanto riguarda il rapporto con la sinistra, sì, insomma, forse non ci siamo capiti sui riferimenti del discorso. Io non credo che l'ecologia, diciamo, i rischi di una deriva antitecnica e antiscientifica dell'ecologismo abbiano a che fare con la sua parentela, con la sinistra radicale. Credo che la sinistra radicale abbia tanti difetti, ma tutto sommato non abbia il difetto di una sensibilità antitecnica o tantomeno antiscientifica. No, io credo che il problema, quindi quello è un problema diverso, è un problema che, anzi, molto spesso in realtà nell'ecologismo antitecnologico risuonano pensieri, semmai di destra, pensieri di altro tipo. La stessa decrescita, in fondo, appartiene, secondo me, a questa dimensione e le stesse battaglie troppo spesso microsovraniste di chi si oppone a questo, a quell'opera, teorizzando il diritto di veto di qualsiasi comunità locale contro un'opera che insiste sul suo territorio. Io penso che ci siano ottime ragioni per avere dei dubbi sulla Torino-Lione, sulla Ferrovia Torino-Lione, ma penso anche che le premesse su cui è nato, si è sviluppato e si è affermato il movimento dei Notav siano premesse, non ho problemi a dirlo, oggettivamente di destra, perché hanno una visione autarchica, appunto, sovranista, che poi, se tu la proietti in una dimensione un po' più grande, porta in direzioni molto preoccupanti. Dopodiché il capitalismo. Il problema, appunto, invece, rispetto alla sinistra radicale, il problema è, appunto, cosa pensare dell'economia. Bisogna intendersi su cosa sia il capitalismo. Il capitalismo non è soltanto la logica del profitto, perché se il capitalismo fosse solo la logica del profitto non sarebbe arrivato fino a oggi. Non avrebbe costruito il welfare, perché il welfare l'ha costruito il capitalismo. Naturalmente, sollecita, eh sì, l'ha costruito il capitalismo grazie al fatto che aveva un partner, perché quello era diventato un partner, non era più un avversario, che era il movimento operaio che aveva fatto Bad Godesberg, che quindi era diventato esplicitamente, rivendicativamente riformista, e che si è messo su quel terreno, sul terreno della riforma dei meccanismi dell'economia capitalista. L'economia capitalista, quindi, è un, è un, è un, diciamo, è una realtà che ha una straordinaria capacità di auto-evolversi, che naturalmente va guidata, va governata, e quindi oggi al profitto non è che non può, non è che può camminare senza avere limiti, ma questa è la storia, diciamo, economica della società da quando il capitalismo è nato. È una continua storia di riforme in cui la logica del profitto ha fatto i conti e in qualche misura poi spesso è stata limitata da logiche di tipo diverso. E credo che questo valga anche per la transizione ecologica. In Italia questo, questo rapporto, che può essere spesso conflittuale, altre volte può essere invece complementare, credo che sia aiutato dalle ragioni che sintetizzava Ermete, cioè dal fatto che l'economia, chiamiamola capitalistica italiana, in realtà affonda le sue radici in un'epoca in cui il capitalismo non esisteva, in cui però esisteva già la capacità di appunto di fabbricare all'ombra dei campanili cose che piacciono al mondo e quindi c'era anche lì un elemento che, a proposito di materialismo, riportava al tema molto della qualità per costruire valore, per costruire ricchezza. Finisco, a proposito di Patria, leggendo, perché questo... Sì. Perché anche questo, anche questo diciamo spiega perché, per esempio, il movimento ecologista insomma poi ha radici molto complicate e complesse, anzi più complicate. Allora questo è un dialogo, sono poche righe di un dialogo tra Piero Calamandrei e Pietro Pancrazzi. Nessuno dei due era comunista, erano due intellettuali, non so come definirli, liberal-democratici, antifascisti, ma insomma sicuramente antifascisti e nel pieno della guerra, non solo del fascismo, si scambiavano queste righe. Questo appunto è Piero Pancrazzi, in realtà. Pietro Pancrazzi scriveva a Pietro Calamandrei nel loro carteggio, è un carteggio molto ricco. Questa nostra terra dove ogni valle, ogni cima, ha un nome di famiglia, dove a scavare colline ci si accorge che sono tombe sulle quali noi siamo cresciuti, senza che mai si sia rotto, nei millenni, il filo della parentela con quei sepolti. Allora nasce dentro di noi come un intenerimento e si sente allora come non mai di voler bene, ma molto bene all'Italia. Ecco, Regambiente poi ha fatto di questa, queste righe, una specie di suo motto, di suo motto, ma insomma dicono bene perché per esempio il tema dell'identità, anche dell'identità patriottica, che è stato per molto tempo dalla sinistra occidentale lasciato nel mare della destra, dico della sinistra occidentale perché poi dove la sinistra comunista è andata al potere, la patria l'ha utilizzata diciamo abbondantemente e talvolta anche drammaticamente, quindi ma non solo Stalin ma anche Castro oppure no? Voglio dire, gli esempi sono innumerevoli. Però ecco, anche qui c'è un piccolo indizio della molteplicità di radici che fanno, credo, la ricchezza e l'originalità anche del pensiero ecologico. Allora, molto bene. Il lapsus mi dà modo anche di dire, di comunicare che noi, Piero della Seda, lo commemoreremo nel centenario della nascita in Campidoglio, alla Protomoteca, il 12 maggio. Allora, io sono molto soddisfatto anche delle risposte, delle risposte alle mie due domande, della discussione che c'è stata e quindi grazie. Grazie a voi, grazie a tutti. Grazie a Katia Papa, a Ermete Realacci e a Roberto della Seda. Grazie a tutti.